ciao a tutti e benvenuti su magis of lotus allora in questa puntata parliamo di nella top 10 degli investimenti di comuni non comuni dell'espansione innistrad promessa cremisi prima di iniziare vi ricordiamo di iscrivervi al canale di lasciare un like di commentare con le vostre opinioni mi ringraziamo un sacco per il supporto mi scuso per la qualità dei video che è veramente bassa cambierò pc da qui a massimo un mese e prendere un pc veramente molto ma molto più potente di quello che uso ora e quindi la qualità dei video sarà migliore ma di tanto spero almeno peggio è impossibile quindi sarà sicuramente migliore e se il computer nuovo supporterà credo di sì farò anche dei gameplay o delle live in base alle tempistiche tutto quindi ci sarà ancora più engagement da parte vostra e allora una premessa queste carte vanno acquistate cioè queste carte che consiglio hanno un senso se acquistate foil per la maggior parte alcune sono alte anche regular però diciamo che lo spike lo possono avere più per la versione foil trovare 10 comuni non comuni con potenziali non è semplicissimo in un'espansione del genere 7 8 carte sono abbastanza sicuro due o tre quindi partiamo dalla decima per cui non sono sicurissimo diciamo che più riempitivo per arrivare a 10 ovviamente top 9 faceva un po non era bellissimo quindi paris blade trainee costo 212 training quindi alla nuova abilità quando attacca con una creatura più forte di lei quindi con forza più alta prende un segnalino p1 p1 quando va al cimitero i segnalini che aveva sopra li spostiamo su un'altra creatura non solo i segnalini p1 p1 tutti i segnalini quindi se per caso gli mettiamo dei segnalini non lo so dico una cosa a caso dei touch vanno spostati anche quelli è una situazione limite ma può capitare la carta è comune quindi giocabile pauper quindi può avere un minimo di senso e l'effetto è simile a un modulare diciamo passiamo alla nona posizione in cui troviamo invece il coble dancer allora questa è una carta un po particolare a costo 1 3 3 quindi grossa troppo come costo addizionale per giocare questa magia dobbiamo esiliare una creatura al nostro cimitero costo 4 la esiliamo dal cimitero e peschiamo una carta allora carta molto interessante c'è un mazzo in moda che si dredgevine che punta a dreggiare per giocare dal per far rientrare dal cimitero dei 4 3 rapidi che rientrano se abbiamo giocato due creature in questo turno questa potrebbe essere una delle due creature tranquillamente e sinergica anche la seconda abilità perché ci permette di dragare nuovamente dragare un'abilità che dice al posto di pescare la prossima volta metti x carta dalla cima del mazzo pari al numero vicino a dragare riprendi questa carta questa abilità ci permette di fare tanto cimitero questa creatura molto sinergica per quel piano e potrebbe avere anche altri usi in altri mazzi un contrattro a costo 1 non è per niente piccolo quindi anche questa mi piace carta con potenziale e siamo nella nuova posizione passiamo all'ottava in cui troviamo il dispawn spider allora questa è una carta queste carte mi piacciono veramente tanto però poi alla fine si giocano poco quindi potrei essere stato un po traviato dal 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 dai dei miei gusti personali però la carta comunque un po potenziale ce l'ha 23 a costo 2 rich quindi blocca bene blocca quasi tutto all'inizio del nostro upkeep migliamo una carta quindi mettiamo una carta in cimitero tappando 4 lo sacrifichiamo e mettiamo un 1 1 per ogni creatura nel nostro cimitero lo possiamo attivare solo a sorcery però questa carta va in sinergia con carte come uro come la slomork vabbè la melma di innistrad quindi ci sono dei mazzi che possono supportarla sia in commander che forse in altri formati quindi può essere un investimento decente anche se a livello economico di solito questo tipo di carte non sale troppo quindi può essere una carta con potenziale da gioco magari economicamente è faticoso che salga quindi ci andrei un attimo con i piedi di piombo però il potenziale ce l'ha comunque la carta fa tante cose è una bella carta passiamo alla prossima posizione in cui troviamo retrib e questa è una carta invece interessante perché ci permette a costo 3 di riprendere in mano una creatura e una non creatura permanente da nostra cimitero esigliamo retrib i mazzi che macinano per esempio mi viene in mente grist riprendere in mano due carte appagando tre mana è forte è molto forte e potrebbe avere altri usi riprende permanenti secondo effetto quindi del mio place walker artefatti incantedimi è interessante la carta ovviamente è fatta per mazzi che si auto macinano oppure che comunque hanno i permanenti che vanno al cimitero quindi se non abbiamo queste due cose qua è una carta un po così però in commander per esempio ci sono degli archetipi che possono provare a testarla almeno e se iniziato a giocarsi in qualche commander il prezzo poi sale ovviamente ci metterà un po è però potrebbe dire prossima posizione per il gas light snare carta molto interessante per pioneer soprattutto mana leak a costo 3 però costa uno in meno se controlliamo lo spirito e uno in meno se controlliamo l'incantesimo quindi possiamo pagare uno il mana leak in pioneer si gioca uvi tendenzialmente spiriti che anche degli incantesimi quindi è molto interessante questa cosa perché possiamo pagare uno mana leak e quindi se questo dovesse succedere è molto bello ha la versione promo quindi tendenzialmente prendere la versione promo foil che è bellissima è veramente stupenda e quindi una carta con ottimo potenziale ricordatevi di scriverci nei commenti le vostre opinioni se ci sono altre comuni non comuni che non ho nominato nella classifica di scrivetecelo nei commenti e così ne possiamo parlare reclase impulse costo due e fa esattamente let up the stage che è una carta che dice esili alle prime due carte fino al prossimo turno le possiamo giocare possiamo giocare anche le terre perché la differenza in magic fra play e cast è proprio questa se la carta dice cast non possiamo giocare le terre perché lanciare lanciare si possono lanciare solo le magie giocare invece play anche le terre quindi molto interessante è comune quindi ha una prospettiva in più perché al power ed è una consistenza diversa rispetto alle top the stage perché le top the stage costa 1 la maggior parte delle volte ma a volte costa 3 questa costa sempre due quindi carta dall'ottimo potenziale disegno stupendo questi devil se sono dei devil si devi lì in giro per il mondo e allora siamo arrivati a reckless droid allora questa è una carta interessante come vedete è già alta anche se siamo ancora in prevendita cioè siamo prima del sempre vendita e costa 1 l'avversario rivela la mano e togliamo una carta che costa 2 o meno cleave togliamo una carta con costo qualsiasi carta buona però il problema che vi da capire dove si giocherà perché questa è una regola che vale è una regola un po generale più il formato al power level basso e più le carte costano tanto mana più il formato power level alto e meno costano le carte quindi per esempio una carta così magari uno potrebbe dire boh allora la gioco in legacy no perché in legacy dei brainstorm lagavan c'è tutte carte costano poco da elver tutte carte costano poco e invece in standard per esempio questa non è non è una carta che fatta costo 1 toglie qualcosa di incisivo anzi rischia addirittura vabbè se la facciamo di primo toglierà quasi sempre qualcosa però oggettivamente toglie magari ciò che non non ci crea problemi quindi pioneer anche ai casting costo abbastanza alti quindi però bisogna vedere quindi una carta da testare non so se ci investire a prescindere nelle versioni foil a potenziale ma è da testare non veramente non è scontato dread fog andiamo nella top 3 in cui troviamo la blood fountain e questa è una carta molto molto interessante perché è una comune a costo 1 un errore ci permette di creare un blotto che è un token artefatto che a costo uno sacrificandolo possiamo scartare una carta e pescare una carta quindi ci fa luta si dice in magic quindi scartare pescare tappando 4 tappando e sacrificandola riprendiamo due creature del cimitero la cosa interessante qual è a costo 1 due artefatti cosa che non è semplice trovare in magic per niente affinità con gli artefatti un'abilità che va in sinergia improvise altra abilità simile ad affinità e quindi carta con potenziale molto bello il disegno veramente stupendo il disegno e quindi da tenere molto sott'occhio è comune quindi potrebbe uscire qualcosa e ci penserei magari in affinity di di pauper potrebbe entrare perché comunque ci permette di fare prima il 4 4 a costo 7 ma veramente tanto prima e in più poi li riprende quindi noi facciamo il 4 4 e se muoiono li riprendiamo quindi sono veramente tante sinergie sono curioso di vedere quanto sta folli in prevendita ma ci saranno pochissime copie non sta niente io ci penserei veramente ci penserei perché secondo me ci può stare vabbè adesso ci sono pochissime copie quindi passiamo alla seconda incontriamo wash away allora poi c'è altissima già di difficile investire sulla versione foil credo quando uscirà però è una carta con potenziale enorme perché in commander counter il comandante a costo 1 perché dice counter una magia non giocata dalla mano scusate non castata dalla mano e tappando 3 ne utilizza qualsiasi carta in commander è veramente fortissima qualcuno parla di ban io non sono d'accordo le risposte non vengono bannate di solito nei formati vengono bannate le minacce e questa è una risposta ma non è una risposta op cioè non è una risposta overpowered sempre il problema è il colore ovviamente che se non counter è blu il blu è il colore più forte quasi sempre e quindi soprattutto in centurion il blu è veramente tanto tanto giocato e mi hanno fatto l'esempio di delle tre carte del comandante di corria che a costo 0 le possiamo giocare se abbiamo il comandante però lì è un fattore diverso sono state bannate quelle grixis in concomitanza dello sbanna di un comandante grixis e quindi ci può stare questa carta qua non credo che verrà bannata qualora non venisse bannata la giocarei subito nel mio mazzeraio che è un mono blu combo control scusate lock control combo e sarebbe una carta che entrerebbe proprio facile facile nel mazzo quindi su questa carta qua tra l'altro in teoria non c'è la versione promo perché qua non me lo segna però potrebbe essere ancora da aggiornare non lo so e su questa cosa non ho il dubbio però qualora non ci sia la versione foil credo che salirà comunque anche altri usi per esempio in un meta living end molto presente in modern è una carta che non viene cassata dalla mano ma viene cascata e questa è molto forte contro quindi ha degli anche negli altri formati più di uno quindi ottimo al primo posto mettiamo la lanterna of the lost e allora questa è una carta già alta anche questa perché sono 70 centesi quando entri in gioco costo uno esiliamo una carta da un cimitero tappiamo uno tappiamo la esiliamo esiliamo tutte le carte da tutti i cimiteri peschiamo una carta allora le due carte che vanno in concorrenza con questa sono la lanterna di teros adesso non mi viene in mente il nome ma è la classica lanterna che si gioca in tantissimi mazzi e la reliquia del progenitus allora hanno tutti tutte e tre dei lati positivi e dei lati negativi quella di teros e questa hanno dei lati positivi che entrambe quando entrano in esiliare una carta però la differenza qual è? che l'altra lanterna of the inside no no quella è un'altra scusate e quella di teros tappiamo, sacrifichiamo e esiliamo il cimitero solo dell'avversario lato positivo no? perché noi non vogliamo esiliare il nostro lato negativo che non peschiamo per pescare dobbiamo tappare uno, tapparla, sacrificarla e allora li peschiamo però non esiliamo quindi lato negativo lato positivo di questa esiliamo, peschiamo è il lato più positivo sempre lato negativo che è l'effetto custom mana quindi dobbiamo stare con un mana open lato negativo e l'altro lato negativo è che esiliamo tutti i cimiteri anche il nostro veramente un lato negativo che può essere pesante in alcuni deck reliqua del progenitus tappiamo, l'avversario sceglie lui una carta da esiliare quindi esilieremo una carta turno ma sarà scelta l'avversario ma quando esiliamo esiliamo tutti i cimiteri e peschiamo quindi lato positivo quindi tutt'anno lati positivi e lati negativi e come investimento ci può stare non c'è la versione promo anche qui non la segna e quindi ci può stare perché potrebbe salire veramente tanto e bisogna capire se verrà giocata negli altri formati sopra queste due carte qua però ha potenziale un grande potenziale adesso mi è giunto ancora questo video vi chiediamo di iscrivervi al canale di lasciare un like e di commentare con le vostre opinioni un saluto e un abbraccio da Megisoflosus e alla prossima ciao